Bella ragazzi sono Fede e benvenuti a un nuovo video, oggi siamo su una reaction, praticamente una reaction su un cartone di Among Us creato su internet e vi metterò i link in descrizione sia del canale in italiano che ha tradotto questo video che del canale originale così se volete andarlo a vedere senza la mia reazione, dopo ovviamente, prima guardate la mia reazione, la guardiamo insieme videogioco che sta diventando popolarissimo ultimamente, anche io ci gioco e gioco anche sul canale di Twitch dove faccio le live, ogni tanto vado in live, cercherò di essere più costante, in teoria ho fatto tipo 3 live però se volete siete invitati, gioco anche con la chat quindi basta che non guardate, la live ovviamente potete tenerla attiva ma senza guardarla con il microfono spento e se volete giocate con me, quindi direi di partire con la reazione Ascolta Stoner, mi devi credere, devi votare per gentiluomo, l'ho ripetuto a tutti quanti durante i precedenti incontri ma nessuno mi ha creduto, non ha fatto nessuna missione, è stato visto vicino alla scena del crimine e inoltre indossa due cappelli, solo un pazzo farebbe ciò, votalo così possiamo vincere la mattina sembra che tu stia cercando di scalare il vetro, questo mi sembra sveglio eh 8 minuti prima, vediamo Ah, dunque questo sarebbe il famoso Among Us Certo, ovviamente caro Oh, e là? Lascia che mi presenti, io sono gentiluomo E il tipo dietro di me è il mio associato formaggio Ha dimenticato il signor E il mio associato Ah Black Jesus, raga, Black Jesus Sembra che il signor Formaggio abbia dimenticato le buone maniere Oh, sì Eh, d'accordo Oh, tu devi essere giocatore Che nome originale Beh, in realtà BABABABABABAB Non ha cambiato nome, mi so Raga ma c'è qualcuno di voi che prende il marrone Ditemelo sinceramente io lo prendo Io prendo il giallo Vediamo di cosa dice del giallo Sono un vero modello per tutto l'equipaggio E con la mia controller è un tipo davvero peculiare Qui invece abbiamo Rose B-Day Sono una coppia molto ben vista delle nostre cenette Quel tipo col cappello bianco si presenta come capitano Alcuni lo vedono come una figura esemplare Nonostante le doti di guida siano discutibili E infine c'è Ninja L'assassino più crudele che conosco Un killer nato Che Dio ci aiuti se verrà scelto come l'impostore Che figa In giapponese Bello Ok come non detto Verdin di rindina I server devono essere impazziti Chi è a favore di cominciare senza di lui Dica hi Hi Che nervoso quelli che leftano se non sono gli impostori Tipo Cioè che Entri la partita Inizia Non fa il tempo di iniziare Vedo che Se è in crew Mette E non è un impostore Allora va via Ma gioca Ma che problemi hai Vabbè Adesso incomincia la partita raga Aspetta ma questa non è la mappa Quella che giocano tutti Mi sembra di no Wow è già morto uno Qua è tipo Un botto Difficile Perché se tu Vedi che il killer uccide Capita tante volte che tu dici che Quello l'ha ucciso Tipo Il black ha ucciso Ma non ti credono E quindi ti votano a te Quindi questo è rischioso Un gentiluomo come me Non farebbe mai Una cosa così barbarica Ah no Poverino figo Beh prova a spiegarlo agli altri Santa groviera Mister formaggio è morto Cavolo Devi proprio essere triste Gentiluomo Sapevo che eravate molto vicini Sì moltissimo Sono stati 12 secondi di agonia Da quando è morto Ma non c'è tempo per il cordoio Abbiamo due impastori a bordo Beh io salterò la votazione Dato che non ho visto niente Non mi sembra molto Addolorato Questo è quello che direi Se seguissi il mio istinto Non servono prove carino Buttiamo qualcuno via Dobbiamo cacciare Angel Beh in realtà credo Io Ma non posso essere l'impostore Ma che voce ha Sì è vero Lei era nella sala del reattore Giusto cara? Certamente Sai il fatto che tu accusi Angel Mi fa pensare che forse sia tu l'impastore sceriffo Lo penso anch'io Ecco c'è un'altra categoria invece che Tipo Spara caso Senza avere prove Indica l'impostore E dice L'ho visto E dopo magari non lo è E viene buttato fuori anche lui Mi è capitato un botto di volte Roba simile No ragazzi non è lo sceriffo Mi avete convinto So già a chi dare il mio voto Tutti coloro a favore di mandare lo sceriffo Nello spazio gelito infinito Dicano Ai Fermi l'impostore Non è sceriffo Ai Mozione approvata Mi dispiace sceriffo Ma sembra che questa nave Sia Adesso vediamo se l'impostore Non credo Quello sia Appunto Cioè Logico Cavolo Sembra fosse quello sbagliato Se solo qualcuno qui dentro Avesse abbastanza prove Per dirci chi era il vero colpevole E dall'inizio dell'incontro Che c'è il corso Gente Separiamoci Vabbè non ascoltano Ah Di nuovo solo Facciamo qualche missione va Va bene Diamo una ripulita ai filtri Ma non so se la mappa Quella che Quella più popolare È un'altra Facile Gentiluomo Manda i suoi saluti Aia Pesante questo Wow gente Crolliamo come mosche Dobbiamo fare un passo avanti E scegliere Una Crolliamo come bosche Io so chi sono l'imposto Stoner Hai qualche idea? Cosa Penso Che debba essere Uno di noi Giusto? Sveglio Figa questo Bellissima Perché ti chiamano Stoner amico? Specializzato in geologia Amico Mi segui? Ma certamente amico Le rocce sono una droga Ragazzi Mi ascoltate per favore So chi sono i killer Uno è Angel E l'altro Ehi cosa capitano Ho avuto un'illuminazione Forse l'impostore è Angel L'ho detto io Io l'impostore Non sono Io lo giuro Sì La cosa deduci Ciao Stoner Beh lo sceriffo Ha detto che era lei La scorsa volta È abbastanza Ora so chi votare Sembra che abbiamo Raggiunto Grossa palla verde Adesso non resta Che un solo impostore Il reattore È stato manomesso Questo è pesante 20 secondi Raga Bello sta cosa Tipo stile Pokémon Bene Due devono mettere La mano sullo scanner Allo stesso tempo Qualcuno vada da quello Ci penso io Pronto capitano Qui lo stesso signori Inizia procedura Controllo fusione Del reattore Figa sta animazione Se pareva Ah Adesso ne manco in tre E questa è tutta la storia Quindi deve essere ovvio È il gentiluomo L'impostore Vai votate il gentiluomo Mio caro ragazzo Sei proprio confuso Mi sa proprio Che allora sei tu L'impostore Ragazzi Calmatevi Posso dare almeno Il mio giudizio Forza votiamo Perché questo non è Molto sveglio Il tuo voto Mi ferisce nell'orgoglio Non mi resta altro Che votare Vai gentiluomo Faria il cazzo Oh tu povero Gnubo Ero io L'impostore Aspetta Cosa? Oh cazzo Si ribalta tutto Qua raga Oh mio Wow Lo sapevo che dovevo continuare con Fall Guys Cioè quindi non era l'impostore Il gentiluomo era quello verde Vabbè ragazzi Se il video vi è piaciuto Mettete like Noi ci vediamo al prossimo video Se volete passate dal mio account Twitch Iscrivetevi Lasciate like a questo video Se vi è piaciuto E se volete altri video Di Fall Guys Di Among Us Tipo reazioni meme Su Reddit Che ce ne sono un bot E sono stra divertenti Scrivetemelo Perché ho intenzione di farlo comunque Noi ci vediamo al prossimo video Bella raga Da fede Ciao a tutti 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 Ciao a tutti